Siete alla ricerca di una bella idea per la cena, facile e veloce da preparare, gustosa, che soddisfi la voglia di pizza? Quest'oggi voglio proporvi la pia di pizza. Ragazzi, si prepara davvero in pochissimi minuti. È super golosa, potete farcirla con gli ingredienti che più vi piacciono, come se fosse una vera pizza. Io nel frattempo faccio la prova a saggio. Non potete immaginare il suo profumo, mamma mia, ve ne innamorerete, come me ne sono innamorata io. Mmm! Adagio sulla teglia da forno, coperta con calta forno, la piadina. Metto al centro la passata di pomodoro a sentimento. Stende in modo uniforme, lascio il borde esterno libero di circa due centimetri. Aggiungo anche la scamorza per pizza. Copro con l'altra piadina, condisco, mettendo al centro qualche altro cucchiaio di passata di pomodoro. Insaporisco con origano secco a sentimento, aggiungo degli altri ingredienti a piacimento come prosciutto cotto tritato grossolanamente, la mozzarella per pizza e il fior di latte, copro tutta la superficie. In forno la pia di pizza a 180 gradi per circa 10 minuti, finché la scamorza non sarà completamente sciolta e non si sarà creata una golosa e croccante crosticina dorata. In questi giorni che fa tanto caldo, potete preparare la pia di pizza anche in padella, coperta con il coperchio a fuoco moderato per circa 8 minuti. Buon appetito miei carissimi amici, vi assicuro che la pia di pizza vi darà tanta soddisfazione, provatela quanto prima e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta, naturalmente condividete i miei video se vi fa piacere e iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti! Grazie a tutti.